l'italia di quel periodo era una cosa meravigliosa io ho vissuto i primi anni dell'aeronautica nel 58 che al circolo ufficiale eravamo serviti in guanti bianchi finito il corso istruttori e ho finito anche la ferma dei cinque anni provveduto a mantenere un lavoro quello che sapevo fare era portare in giro l'arroplani e quindi ho fatto domanda dall'italia sono stato assunto a gennaio del 63 e poi alla l'italia pure eravamo stavamo bene era una bella compagnia finché era c'era velani poi garandini e poi dopo gli altri lasciamo perdere fino a romiti romiti a un certo punto voleva cambiare qualche cosa gli hanno detto pensavo deve cambiare niente ha girato i tacchi andata alla fiat romiti ho volato col vai count che era un turbo elica quattro motori molto bello poi sono passato sul 19 19 ho avuto anche un chiamiamolo piccolo incidente che ho dovuto chiudere un motore in decollo in quanto c'era temperatura e pr che era engine engine pressure ratio che dava un valore particolare per la potenza del motore e ho chiuso al motore chiedendo emergenza sono ritornato a terra con un motore tranquillamente e diciamo così che gli specialisti c'era con diciamo dice famo i filtri dell'olio io rimettiamo in linea venga chi ha controlla i filtri dell'olio c'erano dei di una specie di kleenex è molto pesanti hanno tirato fuori l'olio e più che olio era tutto metallo fuso il motore era letteralmente inchiodato inchiodato detto di fare o rimettete in linea subito sempre così è andata e quando poi sono stato chiamato da dal comandante brazzola che è complimentato perché ho fatto le manovre giuste e aver detto anche che napoleone non sceglieva i suoi ufficiali se come come erano bravi ma anche perché dovevano essere fortunati infatti sono ancora qui racconta un po dei frescacce dopo volato sul boeing 7 27 bell'aeroplano bellissimo aeroplano chiamato che è un aeroplano che c'era c'era la la chiamata money maker la l'italia l'ha comprati per ultimi per ultima e l'ha rivendito per per prima lasciandone anche un paio sul prato a seattle acquistata dall'italia senza neanche il logo all'italia rivenduti dal nostro bravo amministratore delegato umberto nordio basta il posto di più niente io sono andato via nel 1993 30 anni dopo ho fatto 30 anni dall'italia ho preso il regalo che ci facevano dopo 30 anni il rolex prima prima era tutto d'oro poi per un periodo non c'è stato più poi hanno dato ore acciaio vabbè sempre bene mamma l'italia sta bene grazie a tutti